E' possibile averlo questo video da pubblicare? Non lo so Vado a rompere la barbara Ragazzi mi raccomando è tutto nelle vostre mani, stupitemi Se lo registro col cellulare Fai il dvx e fai Poi distraetelo, c'è una chiavetina USB E poi c'è l'applicat E poi c'è l'applicat E poi c'è l'applicat Grazie Grazie Grazie